Un appello al Ministero dell'Interno affinché nell'ambito di Focus Drangheta il protocollo di contrasto al crimine organizzato varato ad Angelino Alfano venca inserito un provvedimento urgente di redistribuzione dell'organico all'interno di procure e tribunali. A chiedere l'intervento del Governo è il sostituto procuratore della DDA Giovanni Bombardieri che al termine della conferenza stampa per l'arresto del latitante Nunzio Manuel Callà effettuato dagli agenti della squadra mobile di Vibo Valencia ha voluto riportare l'attenzione sulla carenza di magistrati che soprattutto nel nostro territorio rischia di compromettere la risposta dello Stato ai cittadini in termini di sicurezza. È un distretto in cui attualmente ci sono solamente cinque magistrati che sono addetti alla direzione del settore antimafia con coordinazione da me e dal procuratore della Repubblica. Quindi un organico che deve far fronte a sette circondari a quattro province, due terzi del territorio della Calabria, due terzi della popolazione della Calabria. Analogo problema affligge anche il Tribunale distrettuale, l'ufficio GIP distrettuale. Il carico di lavoro però comporta che alcune richieste di cautelare pendono per parecchio tempo in quell'ufficio e questo non può avvenire perché non consente una risposta immediata, adeguata ai fatti di reato che vengono perpetrati.